I discepoli di Cristo sono chiamati a evangelizzare sulle strade del mondo e il Vangelo non può essere ridotto a una funzione o a un vanto. Durante la messa celebrata nella cappella della Casa Santa Marta, Papa Francesco si è soffermato su un brano della lettera di San Paolo ai cristiani di Corinto, precisando che evangelizzare non vuol dire fare proselitismo o fare una passeggiata. Evangelizzare significa anzitutto testimoniare, farsi tutto a tutti, convincere con la forza delle azioni piuttosto che con quella delle parole. Come fece il missionario San Pietro Claver. E quest'uomo non ha fatto la passeggiata dicendo che evangelizzava, non ha ridotto l'evangelizzazione a un funzionalismo, neppure a un proselitismo. Ha annunciato Gesù Cristo con i gesti, parlando gli schiavi, vivendo con loro, vivendo come loro. E come questo, nella Chiesa ne sono tanti, tanti, che si annientano se stessi per annunciare Gesù Cristo. Anche tutti noi, fratelli e sorelle, abbiamo l'obbligo di evangelizzare. Che non è bussare la porta al vicino o alla vicina e dirle, ma Cristo è risorto. E vivere la fede e parlarne con mitessa, con amore, senza voglia di convincere nessuno. Ma gratuitamente è dare gratis quello che Dio gratis ha dato a me. Questo è evangelizzare.